Intanto però andiamo a Fasano perché dobbiamo approfondire un altro argomento importante. Ci sono i grandi eventi in Puglia, da un lato c'è il G7, dall'altro ci saranno i giochi del Mediterraneo e fra i protagonisti in tutti e due i casi c'è il comune di Fasano. Ci colleghiamo subito con il sindaco Francesco Zaccaria perché dei giorni scorsi una notizia importante, sono stati stanziati 2,7 milioni di euro per il parcheggio e la viabilità del palazzetto di via Vigna Marina. Buongiorno sindaco, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Anna e grazie per l'invito a voi. Allora intanto come va sul fronte G7? Iniziamo così, una domanda che non era prevista. G7 va, siamo in perfetto, come dire, siamo allineati sul cron programma, i lavori proseguono notte e giorno, quindi ci faremo sicuramente trovare pronti il 13 di giugno e la città sarà ovviamente ben felice di ospitare questo evento che ci sta portando via tantissimo tempo, però è anche una gioia poter organizzare un evento che è unico e che ovviamente non tornerà più nella nostra città. Nel frattempo, affinché i nostri telespettatori possano comprendere anche quello che è il lavoro che si sta svolgendo dietro le quinte, intanto le strade che saranno interessate al passaggio dei leader della G7 sono state completamente asfaltate e poi al lavoro ci sono anche i tecnici e gli esperti delle ASL che stanno facendo dei controlli a tappeto in tutte le strutture turistico-ricettive del territorio. Ad esempio, stanno facendo le campionature per quanto riguarda la legionella che lo scorso anno è stato un problema collegata all'erogazione di acqua calda. Cioè, questo proprio per fare capire, Sindaco, quanto si stiano curando tutti i dettagli di questo grande evento che sicuramente la provincia di Brindisi vuole in qualche maniera svolgere alla grande, vuole essere protagonista alla grande senza alcuna sbavatura dal punto di vista della sicurezza, ma non solo. Sì, la ASL è impegnata al pari dei comuni in organizzazione di questo grandissimo evento, sono stati definiti ovviamente i luoghi dove verranno dirottate le eventuali emergenze, speriamo di no, anche gli aspetti legati alla qualità della somministrazione, dei servizi in genere, sono molto molto attenzionati. Questo proprio perché, come giustamente sottolineavi, nulla deve essere lasciato al caso e nessuna sbavatura deve esserci. Noi siamo ovviamente al fianco sia della ASL, ma del commissario di governo, della questura e della prefettura. Credo che questa grande sinergia sta dando buoni frutti e la provincia di Brindisi certamente non sfigurerà, anzi brillerà di una luce assolutamente inedita che le consentirà di essere conosciuta in tutto il mondo. Dal punto di vista turistico ricettivo, dopo questo evento e grazie a questo evento, il comune di Fasano indosserà proprio la corona ufficialmente di zona sicuramente meglio attrezzata sotto il profilo turistico in Puglia, sindaco, perché insomma si sa, ci sono le strutture d'eccellenza, ma questa poi sarà la prova provata, inconfutabile. Sì, questa è un po' la chiusura di un cerchio, come ho detto più volte, che è partito 25 anni fa, un percorso lunghissimo e bellissimo, che ci ha visti protagonisti e che continuerà, speriamo, nei prossimi anni a vederci protagonisti nel turismo mondiale. Noi ci stiamo attrezzando tante opere ancora che non hanno nulla, come dire, non rientrano nella pianificazione G7, si stanno pianificando per rendere questo territorio all'altezza dei territori più prestigiosi di tutta Europa. Nei prossimi settimane avremo altre novità, altri gruppi molto importanti si stanno affacciando nel nostro territorio per investimenti nuovi e questo non può che renderci felici. E quindi questo è un aspetto che sicuramente dal punto di vista della ricaduta, degli aspetti appunto positivi, è da sottolineare, perché poi il G7 qualcosa sul territorio lascerà, lascerà le strade asfaltate, lascerà il nome di Brindisi, di Fasano, della Puglia, su tutti i giornali nazionali ed internazionali, ma poi sicuramente lascerà i riflettori accesi da parte degli investitori di un certo livello che in qualche maniera attenzioneranno proprio il territorio di Fasano che ospiterà questi big. Cambiamo argomento e veniamo all'altro invece evento importante che sono i giochi del Mediterraneo. Allora, anche in questo caso abbiamo più volte sottolineato che se da un lato Taranto sarà protagonista, dall'altro anche il territorio pugliese ne trarrà complessivamente beneficio, ne trarrà beneficio la città di Lecce, ma anche quella di Fasano, perché sono appunto in arrivo questi 2,7 milioni di euro almeno sono stati stanziati. A cosa serviranno nello specifico, Sindaco? Ma noi dopo l'inaugurazione e la costruzione del palazzetto che abbiamo realizzato con fondi nostri del CONI e della Regione, adesso abbiamo la necessità di strutturare la viabilità intorno al palazzetto rafforzando l'asse mare-collina che è l'asse viario dal quale appunto da Taranto è possibile giungere e raggiungere il palazzetto di Fasano. E quindi l'esigenza di costruire un parcheggio adeguato per la tipologia di evento e anche una viabilità che possa rendere fluido questo transito e il raggiungimento del palazzetto. Di qui appunto la richiesta che noi abbiamo fatto ai giochi nel Mediterraneo Taranto 2026, il progetto è stato valutato e inserito nel primo masterplan che è stato firmato la settimana scorsa e quindi siamo ben felici di rendere pienamente funzionale l'opera che abbiamo inaugurato meno di un anno fa e che sarà protagonista dei giochi nel Mediterraneo perché noi ospiteremo le gare del torneo di Palamano. Fasano è campione d'Italia di questa disciplina, che è una disciplina olimpica, tra l'altro stiamo anche giocando i play-off quest'anno e tra l'altro anche la palovolo femminile sta giocando i play-off per raggiungere la 2. C'è un grande fermento sportivo in città e questo non può che farci piacere anche perché ruota intorno a questa nuova struttura che aspettavamo da più di 50 anni. A proposito di interventi, parliamo di un parcheggio per 350 posti auto, due nuove rotatorie, una pista ciclabile in sede propria. Sì esatto, la ciclabile raggiungerà il centro cittadino, darà la possibilità ai ragazzi di raggiungere in sicurezza dal centro cittadino il palazzetto. Avremo le due rotatorie che aiutano a smistare il traffico perché una sarà collocata sulla Fasano Savelletti, che è un'arteria molto trafficata per ovvie ragioni e quindi un'opera fondamentale inserita nel nostro PRG da tempo ma che ovviamente non era stata mai realizzata anche perché mancava il palazzetto e quindi era un'opera che sembrava superflua ma che oggi è diventata fondamentale. Sindaco, nei giorni scorsi come anticipato c'è stata la firma, la sottoscrizione di questo documento alla presenza del commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. Cosa vi siete detti? Ma ci siamo scambiati un po' le opinioni sullo stato dell'arte, sulla grande difficoltà, la corsa contro il tempo che stiamo tutti cercando di correre per arrivare a tagliare il naso di questo importantissimo evento che ovviamente renderà protagoniste diverse città, Brindisi, Lecce, Francavilla, ovviamente Taranto con il suo Interland, Taranto sarà la regina, ma essendo la regina ha un carico anche di cantieri notevolissimo e quindi ci siamo appunto scambiati le opinioni su quello che accadrà di qui ai prossimi due anni e un po' anche sullo stato dello sport pugliese, sulle regine, sui momenti di difficoltà come quello che sta vivendo, che ha vissuto il basket Brindisi quest'anno, con la speranza che già dall'anno prossimo possa tornare in A1. A proposito di tempistica, c'erano all'inizio due anni a disposizione, i primi sei mesi del primo anno, cioè del 2024, possiamo dirli già trascorsi. Non avete qualche preoccupazione dal punto di vista proprio del tempo che passa e ancora questi lavori non sono iniziati? Sì, chiaramente adesso non bisogna più sbagliare, noi abbiamo tutti i pareri, il nostro progetto era esecutivo già da un pezzo, aspettavamo la firma del masterplan, siamo già quasi in gara, quindi è chiaro che la tempistica adesso è veramente ridotta, il margine di errore si riduce, siamo tutti consapevoli di questo, ecco perché il presidente ferrarese ci ha in qualche modo esortati a non ovviamente commettere anche il benché minimo errore, perché questo potrebbe comportare uno slittamento ulteriore che non possiamo più permetterci. Ora, io non credo che questo accadrà, nel senso che i comuni sono veramente concentrati su questo evento, che è un evento che farà tornare i riflettori del mondo qui in Puglia, e non vogliamo fallire questa ulteriore occasione, che ci rende appunto agli occhi degli altri una regione che funziona, una provincia che funziona e che sa rispettare ovviamente le scadenze attraverso un lavoro di squadra fatto di ufficio tecnico, di tecnici, di istituzioni a tutti i livelli, che funziona e sa fare rete nel momento in cui arrivano gli appuntamenti importanti. Sindaco, prima di salutarla, tra G7, giochi del Mediterraneo, insomma ci sono tante cose da fare. Avete tempo per pianificare l'estate fasanese? Perché ce l'aspettiamo, insomma, ricca di proposte interessanti a questo punto. Bisogna alzare l'asticella ormai. Io da questo punto di vista sì, stiamo lavorando tantissimo e come dici il tempo che rimane è veramente poco. Ammesso che ce ne sia. Oggi mi chiedo dove trovino il tempo i sindaci anche per pianificare, visto che le cose da fare sono veramente tante nei vari comuni. Sì, noi da tre mesi oramai ho l'ufficio tecnico che è stato messo a disposizione del commissario di governo, quindi abbiamo veramente difficoltà a svolgere la normale attività ma questo ovviamente ci fa piacere. Ma sull'estate ovviamente stiamo lavorando e speriamo a breve di annunciare gli artisti che verranno qui a trovarci anche per la settima estate di Wow Pasano che è diventato un po' uno dei marchi dell'estate pugliese. Sindaco, io la ringrazio per la sua disponibilità. Ovviamente le auguro buon lavoro. Intanto per il G7 perché sicuramente è la sfida maggiore per quanto riguarda il territorio di Fasano, di Brindisi, per la Puglia in generale e poi ovviamente anche per i giochi del Mediterraneo e per tutto il resto perché quando un territorio cresce sicuramente un po' tutti ne traggono beneficio se si riescono a impostare le sinergie giuste in questo caso a livello regionale. Buon lavoro e grazie. Grazie a voi per l'invito, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. 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 Eccoci qui. Seconda parte di mattina sud. Vi ho presentato prima della pausa l'ospite. Adesso se la star decide di farsi inquadrare. Eccolo qui. Ve lo presentiamo. Un alano gigante che si chiama Hans e che ha vinto una competizione a livello mondiale. È bellissima questa immagine. Io vorrei però salutare e ringraziare per la loro disponibilità anche i proprietari di questo cagnolone, che non è un cucciolo ma è un giovane, quindi può ancora crescere, può strutturarsi e quindi ringrazio per la loro presenza Pierfrancesco De Tommaso e Monica Pagano, i genitori di Hans, possiamo dire così? I genitori adottivi, allora partiamo intanto, dove vogliamo partire? Dalla competizione, dove siete stati voi per il World Dog Show che si è svolto ad aprile, dove? A Zagabria, è una gara che è stata voluta dalla Federazione Cinologica Internazionale che è la realtà più importante che gestisce tutte le valutazioni zootecniche sul piano mondiale. Ogni anno viene individuata una località dove i migliori esemplari da tutte le parti del mondo si incontrano e vengono appunto valutati dal punto di vista squisitamente della loro bellezza, struttura in relazione allo standard della razza e tra di loro poi sarà definito un vincitore. Ecco, queste sono le immagini, è una foto di Pierfrancesco insieme a Hans, il momento in cui... E questa è una nicchia, è veramente una piccola perla questa foto perché al di là della vittoria che c'è stata, lui è stato selezionato tra i più belli per poter poi andare nel ring d'onore alla sera. Ecco, questo che è una serata di gala. Quella di prima sì, questa è la foto che viene destinata dall'organizzazione a tutti i vincitori dove appunto entrano così nell'albo storico e Hans già l'anno prima Ginevra bantava di aver vinto nella categoria dei cani tra sei e nove mesi, tra gli alani tra i sei e nove mesi, quindi riesce a vincerlo per due anni di fila. E di questo non possiamo che essere entusiasti, ancora oggi stiamo realizzando. Lui vive con noi, in casa, in famiglia, il comportamento qui in studio penso che la dica lunga. Assolutamente... Sul suo temperamento, è docilissimo. Assolutamente a suo agio, noi li viviamo così. Allora io vorrei conoscere meglio qualche aspetto di questa competizione mondiale perché mi incuriosiscono anche i parametri che vengono utilizzati per stabilire quale sia il cane più bello del mondo. Insomma in gara ce ne erano 257, ne erano pochissimi a livello mondiale. Ma la vostra, prima di definire questi aspetti, io vorrei sapere da Monica quando è iniziata la vostra storia con Hans, che tra l'altro non si chiama semplicemente Hans, ma Hans della Roccia Rossa. Quindi spiegatemi un attimo, ha un cognome, che cosa significa? Roccia Rossa è il nostro affisso. Noi da sempre amiamo gli animali, siamo cresciuti con gli animali e da sposati abbiamo deciso di intraprendere questo meraviglioso percorso che è la nostra passione, da cui abbiamo iniziato a selezionare in maniera oculata l'alano in questo colore specifico. Cioè voi avete deciso di prendere un cane e poi avete deciso che vi piaceva l'alano e poi avete iniziato a cercarne uno che in qualche maniera vi colpisse? I criteri della selezione, cioè nasce tutto dal criterio della selezione. stabilita la razza che più piace, le cui caratteristiche fondamentalmente caratteriali e anche legate all'aspetto, più si avvicinano a quelle che sono le nostre attitudini, perché diventa un compagno di vita, ci si inizia ad inderezzare per quella che è la selezione, cioè trovare tutta quella serie di fattori, di caratteristiche che rappresentano una unicità di tipo e che possono abbracciare in maniera significativa e con qualità la riproduzione. Quindi se noi siamo partiti dalla trisnonna, la trisnonna è stata volutamente fatta riprodurre con un cane che con lei si immaginava potesse dare determinati tipi di risultati e vuoi un po' di tecnicismo, vuoi che ci abbiamo visto bene, vuoi che ci sia un po' di fortuna o come ci insegnano i nostri antenati, te li manda il signore, sono nati perché tutti loro sono sempre stati campioni di bellezza, la bisnonna, la nonna, sua mamma, sua mamma si è distinta particolarmente, e poi lui che ha continuato a prendere il testimone in quest'ambito. Quindi la selezione nasce proprio su questi criteri e speriamo di potervici continuare, sempre in punta di piedi perché è nostro avviso non avere mai una grande quantità di cani in casa, per il momento sono quattro, devono vivere con noi, devono convivere bene tra di loro, e ci deve essere serenità e ci deve essere grandissima attenzione a loro quando diventeranno anziani. Quindi in questo momento in realtà... È un impegno notevole. Sì, ma il massimo delle coccole ce le ha proprio la bisnonna perché è molto anziana. Quindi sono tutti alani i vostri cani? Assolutamente, sì. Sono in questa tinta. Cosa vi piace di questa razza? Tutto. L'alano è il classico cane d'appartamento, sta benissimo anche negli spazi, quello che veramente colpisce e chi lo conosce sa, non è un cane che ha bisogno di spazi, lui vive per la famiglia, vive per il padrone e vive in simbiosi, quindi c'è quel rapporto uno a uno che ti completa. Veniamo invece a quelle che sono i dettagli di questa competizione. Sì. In base a quali criteri si stabilisce che un alano sia più bello di un altro? Allora, in questo ambito delle figure che vengono nominate, ad esempio in Italia, la nomina dell'esperto giudice di esposizione, è una nomina che arriva dal Ministero delle Politiche Agricole, della Sovranità Alimentare, che individua delle persone che dopo un particolare tipo di percorso matureranno tutte quelle conoscenze tali da poter esprimersi nell'ambito di una valutazione zootecnica dove un cane viene presentato e giudicato sulle sue caratteristiche morfologiche di carattere in relazione allo standard di razza, che è senza dubbio il riferimento assoluto dove vengono elencate tutte quelle caratteristiche a cui bisogna fare riferimento. Voi siete diventati anche un po' degli esperti di questa razza. Quando avete visto i quasi 300 altri esemplari, avete pensato di poter vincere con il vostro cane questa competizione? Ve lo sentivate un po'? In realtà no. No, perché no? Per scaramanzia. Ma perché sono tutti di altissimo livello. Innanzitutto va detto che in Italia in questo momento c'è una qualità particolarmente alta. Anche altri allevatori si sono distinti in questa competizione, nelle altre tinte con l'Alano, in altre classi. Quindi l'Italia in questo momento è forse la massima rappresentanza per questo Alano, benché sia di origini tedesche. A livello mondiale o a livello europeo? A livello mondiale, sicuramente anche a livello europeo di riflesso. Quindi c'è un sentimento di cinofilia in Italia veramente molto alto. Nei confronti di tutte le razze, cioè se noi adesso dovessimo stilare una statistica, ci si rende conto come il sentimento della cinofilia tecnica di qualità da parte dell'italiano è veramente molto pronunciato. Tu sei proprio un esperto del settore, cioè si capisce proprio sempre quasi un tempo. E a livello amatoriale, faccio il medico nella vita, questa è una passione, mia moglie è un ottico, è una passione che ci porta ad affrontarla con criterio, con piacere. È come se uno si dedicasse per gusto a correre in un autodromo con una bella auto da corsa, ma non sono un pilota e ci sono sicuramente tante figure professionali che seguono i cani. Noi lo vogliamo fare con quello slancio di qualcosa che piace veramente, per cui non ci si stanca di approfondirla. Io non ho capito se voi l'avete fatto stancare durante la notte, Hans, e che adesso si è steso sul pavimento. A me sarebbe piaciuto vederlo in piedi, perché lì è veramente molto grande, molto molto grande. Parliamo un po' delle misure, perché sembra... Sì, un alano è un cane grandissimo nel formato e ogni sua parte è assolutamente proporzionata a tutto il resto. Ma è sempre così buono? Sì, innanzitutto, ma proprio perché a noi amiamo crescerli in un ambiente domestico e tenerli in questo equilibrio e con questa serenità. Possiamo farlo riaccomodare il principe, non vorrei che in qualche maniera si fastidisse. È un guardiano attento, cioè se qualcuno viene dove noi viviamo, vedrà vicino al cancello sicuramente un'attenta sentinella. Lui sarà pronto sempre a immolarsi per difendere la sua famiglia, però è un cane equilibrato. Sai che in questo è un momento di giovialità, di serenità, e quindi ha riconosciuto un salotto, gode dell'aria condizionata e perché no? Proviamo a farlo girare a favore di telecamera, perché è veramente bellissimo. Tra l'altro in regia c'è il solito Gianfranco Melillo, che preferisce inquadrare più gli amici a quattro zampe che i conduttori di questa trasmissione, per evidenti motivi. Eccolo qui, in tutta la sua bellezza. Ma come trascorre la giornata? Cioè voi siete i padroni e lo fate vivere in casa, oppure lui fa per esempio un percorso di addestramento insieme agli altri quattro membri della famiglia? La nostra casa è una gran bella villa, quindi loro hanno l'opportunità di vivere tanto in casa quanto fuori, in assoluta libertà. Ovvio che gioca veramente tanto con il resto della parentela. E per quanto riguarda l'addestramento, facciamo tutto noi. Fate tutto voi. Siamo una squadra, quindi amore e fantasia. È la cosa che più ci piace, non ci siamo mai rivolti ad altri per la gestione e l'addestramento, perché comunque per arrivare in questo ambito, a queste manifestazioni, il cane deve essere dressato. Dressato vuol dire che deve fare tutta una serie di passaggi per imparare ad essere sottoposto ad una valutazione critica. Avete in mente di partecipare ad altri tipi di competizioni? Voi magari ci prendete anche il gusto con Hans. Quali sono per esempio gli altri appuntamenti? Adesso lui ha un amico, questo riccio di peluche con il quale gioca, perché oramai ha preso dimestichezza anche con l'ambiente dello studio. Immagino che all'inizio abbia preso un po' le misure, adesso si lascia un po' andare. Sicuramente lui, sempre nell'ambito di queste manifestazioni, farà il suo percorso da adulto, su cui siamo veramente molto fiduciosi, perché per tanti aspetti vincere determinati aspetti nella categoria giovani è anche più impegnativo. Si sta intrecciando con il guinzaglio, vogliamo fare sedere così poi magari appena ci salutiamo riusciamo in qualche maniera a liberarlo? Chiedo scusa per averti interrotta. No, 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 nella maniera più assoluta. Se si fa riferimento ad altri aspetti per cui un cane può essere valorizzato e gestito, certamente c'è una cosa che a noi realmente più piace, sono le grandi scampagnate ed escursioni in natura con il nostro cane. Lui proprio quest'anno, assieme a Monica, ha completato tutto un percorso di dog-eaking, che è per l'appunto il trekking fatto con i cani in aree di natura aperta. Come lui l'abbiamo sempre fatto con gli altri membri della nostra famiglia, ed è la cosa che più ci cementa nel rapporto con il cane, perché affrontare un percorso di natura, anche se selvatico, inevitabilmente porta ad avere una simbiosi, un'intesa molto forte con il cane, che verrà riportata poi anche tornando a casa. Per cui poi andare a fare una gara di bellezza è una passeggiata. È una passeggiata. Prima di salutarci, io volevo chiedervi come l'ingresso di questi amici a quattro zampe ha cambiato la vostra vita, mi pare in maniera significativa, dando un valore aggiunto notevole. E quindi che tipo di messaggio vi sentite di lanciare ai nostri telespettatori, soprattutto alla luce di tutte le notizie di cronaca delle quali parliamo ogni giorno. Allora si vede che Anze è un cane mansueto, ne abbiamo ospitato dieci giorni fa un altro nei nostri studi, si chiamava Perla. E quindi anche quando voi leggete quelle notizie di cronaca, dei cani aggressivi, come le commentate? Vi fa male un po' questa cosa? Perché poi gli esperti del settore, che pure abbiamo ospitato qui nei nostri studi, sostengono che gli uomini non siano in grado di percepire e intendere quello che è il linguaggio dei cani, che invece vanno rispettati. Verissimo. Il cane sa fare, il cane. E tutti questi brutti incidenti che succedono è perché l'uomo volontariamente o involontariamente commette degli errori gravi, per cui il cane ha questo atteggiamento. È brutto dirlo, ma in realtà è così. Il bravo proprietario fa il bravo cane. L'educazione è la base fondamentale di tutto, a prescindere dalla razza. Realmente non ci sono razze buone o razze pericolose. Se il cane è educato, se il proprietario è all'altezza, non succede mai niente. Io sentirei anche Pierfrancesco su questo argomento che è delicato. Sì, nella maniera più assoluta. Perché se si crea adesso un momento di sfiducia, la gente può allontanarsi o addirittura diventare prevenuta nei confronti di determinate razze, che sicuramente potranno essere più inclini ad un istinto predatorio, potranno essere più semplice nel loro abitus genetico a mordere rispetto ad altre. Ma se sempre da piccini, educati all'ambiente domestico, condotti bene alla socializzazione, ritengo che le possibilità che si possano sviluppare, eventi così violenti che arrivano poi alla disgrazia iniziano a diventare veramente remoti. Ma non bisogna mai scordarsi che sono animali, che sono fiere. E che forse sbagliamo noi perché li vogliamo umanizzare in tutto. E questo è un grande errore. Brevissima, bisogna sempre essere prudenti, attenti. Quindi quando condotti all'esterno, sempre con misure di contenzione, qualora qualcuno si voglia avvicinare per accarezzarlo, voler giocare, essere prudenti, e sempre con gli occhi addosso in ogni momento, e se qualcuno per necessità ha voluto gestire, addestrare i propri cani, alla guardia e alla difesa della proprietà, sarà maggiormente responsabile che in qualsiasi momento della loro vita, perché loro stanno lavorando, deve fare in modo da non esporli a situazioni equivoche, per cui possono manifestare la loro attività lavorativa in maniera maldestra, uccidendo qualcuno. Grazie a Pierfrancesco De Tommaso e a Monica Pagano, i proprietari di questo splendido esemplare di Arano, il più bello del mondo, che è Brindisino, e quindi noi siamo orgogliosi di averlo ospitato. Vediamo se riusciamo ad inquadrarlo prima di salutarlo. Anz, eccolo qui, e così poi facciamo una pausa e ritorniamo in studio con altri contributi. Eccolo, eccolo qui, va benissimo così. Grazie, grazie. Facciamo una pausa, ci rivediamo fra qualche minuto. Eccoci qui ancora in onda per la terza parte di Mattina Sud. Io chiederei di andare a fare il saluto quotidiano alla nostra Claudia Turba, che dovrebbe essere in diretta da Radio Antenna Sud. Per capire com'è iniziata questa settimana, mi fa segno. forse non sente l'audio, e quindi se in qualche maniera possiamo aiutarla. Per capire com'è iniziata questa settimana, Claudia, mi senti? Ce l'abbiamo, Claudia? Io la vedo. Eccomi, eccomi, non ti sentivo. Eccola, eccola, sì, vedevo fare. Buongiorno. Buongiorno, come va? Com'è iniziata questa settimana, Claudia? Bene, bene, devo dire. Nonostante lo scirocco, vedi quando i miei capelli sono legati, è questo scirocco. Quindi è questo. Per il resto, bene. Sono i trucchi del mestiere. Pronta, Anna? Come, Claudia? Parliamo di vacanze, di costi e di cose, diciamo, di idee. Ecco, questo è un argomento molto interessante, perché l'estate è dietro l'angolo oramai, eh? Esatto, esatto. E a quanto pare, mia cara Anna, sarà un'estate rovente anche dal punto di vista dei rincari. Ricordi lo scorso anno la grande polemica a livello nazionale relativamente a questa Puglia troppo cara? Beh, quest'anno i rincari ci saranno e come, perché ci sono stati già degli studi statistici secondo i quali un lettino per una coppia, parliamo ovviamente di Lido, quindi di giornata al mare, costerà all'incirca 60 euro. Io che sono una fan sfegatata delle spiagge libere, dell'ombrellone della Borsa Frigo, diciamo che non mi tange questo rincaro. Tu invece, Anna, di che squadra fai parte? Lido o Borsa Frigo? Allora, no, Borsa Frigo anche no, Claudia, nel senso che però ha il vantaggio di avere un appoggio proprio di fronte al mare, per cui non ho bisogno soltanto per quello. Poi sono una di quelle che prende un po' le distanze dal sistema del Lido, proprio perché, secondo me, io capisco che ci sono dei rincari che è giusto in qualche maniera aggiornare anche i prezzi rispetto a quello che è il costo della vita. Però, se un lettino che fino a cinque anni fa costava otto euro, oggi non può costarne trenta, perché, sinceramente, è sempre lo stesso lettino, voglio dire, per cui mi auguro che i costi in aumento siano quelli, per esempio, dei lavoratori, dei dipendenti, dei lidi, spero che loro vengano pagati di più. Allora, in quel caso, mi piace anche pagare un ticket d'ingresso, per esempio, maggiorato, se il lavoro dei dipendenti dei lidi viene pagato per quello che deve essere pagato. Non so se ho reso l'idea. Diversamente prendo le distanze. Hai reso benissimo l'idea. Sì, questo poi è anche un altro grande tema quando arriva l'estate, cioè la questione dei lavoratori stagionali. Questi lavoratori che non si trovano e il botta e risposto soprattutto sui social, vabbè ma pagateli così arrivano, c'è da dire che è cambiata proprio la percezione della qualità della vita e i ragazzi, perché solitamente diciamo i lavori stagionali sono più cuciti addosso, ragazzi che magari si fermano con gli studi, non sono più disposti e credo che sia anche giusto lavorare 12-14 ore al giorno per magari uno stipendio irrisorio, cosa che magari durante la mia generazione, perché io ho fatto le stagioni per mantenermi agli studi, abbiamo fatto ma effettivamente l'estate non esisteva, cioè lavoravi tutto il santo giorno per poterti permettere poi ripresa magari l'università qualcosina in più, qualche lusso in più o semplicemente pagarti l'affitto, cioè è cambiata la percezione della vacanza da un lato, questa ricerca estrema del lusso e del lavoro dall'altro, cioè a volte viene poco valorizzato il lavoro, soprattutto quello stagionale, perché diciamo, si fanno un bel mazzo di lavoratori stagionali, lo dobbiamo dire. Ma poi c'è anche un'altra polemica, quella relativa proprio alla borsa frigo, ecco, io sono d'accordo in un lido non si può andare con la borsa frigo, ma a volte si esaspera tutto quanto, cioè non viene consentito neanche di portare una bottiglia d'acqua e un panino, questa cosa, così come hanno puntualizzato più volte le associazioni a tutela dei consumatori, non deve essere fatta, nessuno può pretenderla, anche andare in un lido, se voglio andare in un lido posso consumare la mia acqua, posso consumare il mio panino e nessuno deve in qualche maniera vietarmelo, per cui facciamo attenzione, noi dobbiamo essere rispettosi da un lato di quelle che sono le esigenze dei gestori dei lidi, che ripeto, spero abbiano nella lista dei costi in aumento anche quelli degli stipendi da riconoscere ai propri dipendenti, però nessuno può venire a dire che non si possa consumare un panino sotto un ombrellone di un lido senza esagerare, detto ciò la cosa che mi interessa di più è cosa metti nella borsa frigo, cioè io voglio sapere, ma diciamo la scelta della borsa frigo per quello che mi riguarda Anna è dovuta alla scelta della spiaggia, perché sono amanti, diciamo io e la mia famiglia siamo amanti delle riserve e sai bene che nelle riserve naturali tipo Tore Colimena per dirne una, non c'è il chiosco bar, cioè per poter raggiungere il posto più bello ti devi fare qualche chilometro a piedi, quindi o borsa frigo muori di fame di sete, quindi non c'è altra soluzione, però il mare cristallino, la serenità e la bellezza che trovi in quei posti, perché magari alle spalle hai la riserve e ti vedi questi fenicotteri volare in cielo e di fronte c'è un mare fantastico secondo me ne vale la pena. Insomma questa turba così romantica scopro sempre qualcosa di nuovo di te Claudia. Allora io vedo già il mare, già mi sento in vacanza, ti mando un bacio e ti ringrazio perché questo argomento sicuramente sarà oggetto di approfondimento anche nei nostri studi nei prossimi giorni. Ciao Claudia un bacio Ciao buona giornata a te hanno un saluto a tutti i vostri e i nostri telespettatori di Antena Sud da domani. Ciao cara adesso andiamo invece alla terza per parlare della festa patronale andiamo a vedere uno speciale che è stato realizzato dai colleghi. è una festa ormai che riprende tutta la tradizione storica religiosa culturale anche inogastronomica della nostra terra innanzitutto diciamo l'aspetto fondamentale è il rito religioso nel 1650 anno in cui la terza pare abbia vissuto una grande nevicata fu l'anno in cui apparse la Madonna nella cripta è l'anno in cui il pastorello riuscì a salvare le pecorelle dalla morte certa pecore che le erano state affidate dal Marchese e quindi si rievoca questo momento ma nello stesso tempo tantissimi pellegrini rientrano qui alla terza e devo dire la verità questo è l'anno del turismo delle radici che coincide proprio con la nostra festa in cui tutti coloro che sono emigrati generalmente le emigrazioni sono stati tra la Germania e l'America ritornano nella nostra città ritornano a vivere i propri quartieri a vivere tutto quello che è il corteo tutta quella che è la processione ormai straordinaria per le vie della città la Mater Domini che benedice la nostra città è simbolico ma nello stesso tempo un momento per me molto ma molto emozionante quando finisce la celebrazione eucaristica e il sindaco pone nelle mani della madre celeste e quindi della Mater Domini le chiavi della città in queste circostanze ho sempre pregato ricordo il primo anno pregai tantissimo per le vittime del covid quindi ogni anno affido la Madonna alla città perché possa veramente custodirci e possa col suo manto celeste aiutarla ad andare avanti a far sì che la terza sia sempre una città in cui la Madonna sia sempre al centro e la devozione alla Madonna sia quella forza che ci fa andare avanti il dottor Francesco Giannico è presidente dell'amministrazione Mater Domini il culmine della festa avverrà il 20 maggio ormai da 296 anni siamo alla 296esima edizione tutti gli anni il 20 maggio si svolge una processione processione che vede portare il simulacro della Mater Domini dal santuario verso la chiesa matrice tradizione del nostro paese che la domenica successiva il simulacro fa il percorso inverso ed è la cosiddetta ottava della Mater Domini vi invito a partecipare alla nostra festa padronale anche per l'importanza dei fuochi d'artificio che ci saranno per la sera del 20 maggio le luminarie importanti della ditta Filippo Rocco de Filippo è un'azienda campana e per le numerose rassegne bandistiche che arricchiranno la nostra festa è un appuntamento che inaugura una ricca stagione per tutto l'anno sì una ricca stagione perché stiamo concludendo il calendario estivo anche per la terza estate quindi ci saranno come tutti gli anni tante attrazioni a partire da quelle ormai adariche storiche quale la Sagra dell'Arrosto il Festival della Pizza e tante altre diciamo iniziative importanti che sono ormai attrattori della nostra città infatti la terza è conosciuta sotto l'aspetto culinario ino gastronomico il pane di la terza la focaccia tutto viene fatto con materiale a chilometro zero quindi la genuinità poi in modo particolare quest'anno ecco abbiamo un po' delle restrizioni siamo un po' tra virgolette castrati perché abbiamo avviato i lavori di Via Roma quindi grazie a un finanziamento regionale c'è la riqualificazione di Via Roma che è già partita l'anno scorso tutta la viabilità nuova però ecco grazie ai cittadini che hanno compreso che tutto questo ci dà la possibilità di modernizzare la nostra città di renderla ancora più un attrattore turistico e nello stesso tempo ci sta dando la possibilità di decongestionare la terza e di renderla più sostenibile più green e non dimenticare poi il Grand Canyon della terza sì il Grand Canyon che è l'attrattore principale lo possiamo dire già l'anno scorso abbiamo avviato la prima edizione del Canyon Balloon Festival in pratica si riesce a vedere a visitare la gravina con le mongolfiere quindi non c'è più una vista orizzontale solamente ma anche verticale che sarà replicata anche quest'anno l'anno scorso ha visto migliaia di turisti che sono venuti a deliziarsi di questa iniziativa e quindi diventa sempre un punto centrale e anche perché favorisce il turismo sportivo le discese dalla gravina i vari percorsi la possibilità di poter visionare quindi gustarsi della visione del capovaccaio un rapace che è ancora nidifica nella nostra gravina la cicogna nera che è ritornata insomma c'è tanto e tutto di più quest'anno e per noi la madonna è una festa molto molto sentita quindi è di dover stare qui a festeggiare questa grande festa e questo evento veramente importante con aspetti religiosi ma non solo aspetti religiosi di fede ma anche tradizionalisti come ovviamente un po' tutte le varie tradizioni laertine ecco perché è un punto di richiamo per scoprire o riscoprire antiche tradizioni che vanno dalle macellerie alla panificazione all'artigianato alla Gran Canyon di La Terza ecco perché sostenevo alle tante tante ovviamente cose laertine che ovviamente fanno piacere riscoprire diciamo anche con attività industriali importanti come quella che li dirige beh noi cerchiamo di fare quanto più possiamo perché comunque è un piccolo paese però fatto anche di tante realtà e tante 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 aziende belle aziende e soprattutto di persone che si danno da fare leonardo leonardo clemente è a capo della rete d'impresa che qui alla terza con il pane doc di La Terza nonché patron di un'azienda importante nella panificazione ecco il pane cominciamo con l'accostamento del pane alla sacralità quindi alla festa di Mater Domini sì il pane di La Terza è un simbolo per tutto il territorio ionico perché noi abbiamo ereditato questa tradizione del pane di La Terza fatto con un lievito madre e cottura nei forni a legna e cerchiamo di custodire la stessa ecco c'è la possibilità concreta di lanciare una filiera della panificazione è quello che stiamo facendo con la rete d'imprese per fare un collegamento un collegamento diretto tra il colchivatore e il consumatore per capire un attimino dove vogliamo andare noi ce lo devono dire i nostri clienti ecco avete inaugurato nuove importanti strutture qui all'interno della sua azienda nel segno della sostenibilità certo siamo pronti anche per la macinazione diretta come si faceva una volta con la macina a pietra quindi andremo a fare la raccolta del grano locale con la soccatura e poi la macinazione la trasformazione con la vendita diretta del nostro prodotto se è possibile anzi ci state lavorando da tempo a coinvolgere le nuove generazioni rispetto a un comparto importantissimo dell'economia è fondamentale coinvolgere le nuove le nuove leve è determinante perché se no non c'è il ricambio generazionale e le tradizioni vanno a morire quindi devono approfittare i giovani del prezioso contributo di maestri come lei che possono instradarli certo noi non abbiamo non abbiamo segreti per portarci dietro niente il nostro il nostro è il è un contributo che vogliamo dare al nostro territorio e quindi dopo la festa patronale di la terza un contributo curato dal nostro direttore editoriale Pierangelo Puzzolu noi cambiamo territorio andiamo a nord della Puglia in maniera specifica ci spostiamo a Trani dove c'è il nostro Antonio Gargano perché vogliamo parlare di un appuntamento soprattutto di un anniversario importante pensate 930 anni dall'arrivo in città del santo patrono San Nicola il pellegrino sul posto abbiamo Antonio Gargano con diversi ospiti nella fattispecie Don Gaetano Lops rettore della Basilica Cattedrale Don Mimmo Gramegna coordinatore della commissione pastorale andiamo a vedere se è pronto Antonio Antonio ci sei buongiorno buongiorno Anna siamo in Greta da Trani in una conferenza stampa che sta per iniziare quella del 930 anniversario dell'arrivo di San Nicola Pellegrino in città un evento fondamentale per tutta la storia e per la comunità tranese un appuntamento di grande rilievo anche appunto per la cittadinanza che in San Nicola Pellegrino vive un po' il momento fondamentale della sua vita religiosa durante l'annata in generale appunto di quella che è la diocesi di Trani Barletta Biceglia che vede Trani appunto come città capofila siamo con Don Gaetano Lops e Don Mimmo Gramegna che sono diciamo i punti di riferimento di questa storia partiamo da Don Gaetano Lops un appuntamento come detto fondamentale per tutta la storia di Trani e la cittadinanza vive in maniera molto attenta e molto intensa questa programmazione e questo evento in particolare si quest'anno come dicevi ricorre il 930 anni dall'arrivo qui di Nicola il Pellegrino e anche il Beato Transito quindi l'accoglienza quest'anno lo vogliamo proprio mettere in evidenza da parte dei cittadini tranesi e del Vescovo Bisanzo di allora che hanno saputo vedere in questo giovane folle per Cristo così come lo classificano tra i Santi un esempio e una testimonianza di santità quindi vogliamo proprio mettere in evidenza questo aspetto come anche Papa Francesco ci ricorda tante volte nelle sue catechesi nelle sue omelie di un'accoglienza che va al di là delle apparenze quindi Bisanzio all'epoca vide oltre questo giovane lo accolse andando proprio al di là delle varie situazioni delle apparenze che poteva comunque condizionare anche l'accoglienza quindi una forte attenzione a questo aspetto accogliere l'altro al mettere l'altro al centro Don Mimmo Gramenia cosa significa per la città di Trani la figura di San Nicola Pellegrino? Certamente è un punto di riferimento una spiritualità un messaggio da poter incarnare nell'oggi e quello che noi vogliamo con questo novecentotrentesimo è continuare su questa scia di testimonianza di santità che certamente va continuata a essere presentata in tanti modi quindi nell'aspetto culturale nell'aspetto del dialogo con le nuove generazioni ecco i progetti per le scuole i progetti anche nell'ambito ecumenico il dialogo perché San Nicola il Pellegrino apre una bella finestra di dialogo ecumenico ma anche l'aspetto anche religioso propriamente detto quindi le due feste quella di giugno quella di agosto ecco è una comunità cittadina la comunità cristiana nella zona pastorale che si muove per continuare a parlare di questo santo ecco oggi la conferenza stampa che apre un po' questo programma don Gretano quali sono anche i punti cardine di questa conferenza che cosa si va a presentare mettiamo in evidenza i vari aspetti delle varie celebrazioni che si terranno a partire proprio da questa sera nella basilica cattedrale ricorderemo nella celebrazione eucaristica proprio l'arrivo di San Nicola e Pellegrino e poi ci sarà anche una mostra dedicata a San Nicola e Pellegrino sulle campane della devozione delle famiglie tranesi poi in maniera straordinaria porteremo il 25 maggio in basilica anzi riporteremo almeno per una serata la tavola trecentesca dove appunto viene rappresentato Nicola e Pellegrino con le varie parti e scene della sua vita quindi sarà illustrato il restauro che fu fatto anni fa ma soprattutto l'elemento figurativo quindi tante tante belle iniziative che comunque ci vedranno tutti impegnati a livello cittadino Don Mimmo un'occasione anche per accogliere tanti fedeli nella città di Trani un'occasione per il turismo religioso ma soprattutto per stringersi in un'unica comunità a prescindere poi dall'appartenenza di San Nicola e Pellegrino Certo San Nicola il Pellegrino è e deve essere un santo che unisce ecco perché tutte le iniziative sono promosse dal Consiglio Pastorale Zonale dalla Confraternità di San Nicola dal Comitato Feste Patronali e sono certamente patrocinate dalla città di Trani dall'amministrazione comunale che ringraziamo per il sostegno per la collaborazione oggi non possiamo prescindere da questa capacità della comunità cristiana di creare rapporti relazioni che aiutano a camminare insieme E allora questa è una piccola anteprima possiamo dire di quella che sarà la conferenza stampa che a brevissimo si svolgerà qui a Palazzo Brocchie uno dei palazzi più belli e rinomati anche del centro storico tranese una cornice che si adatta alla perfezione a quella che è l'intensità di questo momento per la vita della comunità tranese per tutti gli altri approfondimenti ovviamente l'appuntamento è nelle nostre edizioni del telegiornale a voi studio Grazie Antonio Grazie a te e grazie ai tuoi ospiti lo ripetiamo Don Gaetanio Lops Rettore della Basilica Cattedrale Don Mimmo Gramenia Coordinatore della Commissione Pastorale proprio che hanno rilasciato le dichiarazioni prima della conferenza stampa un appuntamento importante in occasione del 930esimo anniversario dell'arrivo in città della Santo Patrono San Nicola il Pellegrino quindi siamo a Trani maggiori informazioni nelle nostre edizioni della telegiornale così come anticipato dal collega Antonio Gargano per oggi ci fermiamo qui con Mattina Sud noi ci vediamo puntuali domani mattina alle 9.30 per raccontarvi come sempre quello che accade in presa reale sul nostro territorio di Puglia e Basilicata arrivederci e buon proseguimento di giornata woohoo Grazie a tutti.